Avvocato Gina Lupo, consigliere di parità della provincia di Taranto, candidata per la terza volta al Consiglio Comunale di Taranto. La sua scelta è con la lista bene comune che supporta il candidato sindaco Piero Bitetti. Dicevo, una terza candidatura al Consiglio Comunale, sempre nell'ambito del centro-sinistra, con una lista civica. Ci parli di questa sua decisione, di questa sua scelta. Sì Luigi, come hai detto tu, la mia terza campagna elettorale, sempre nel centro-sinistra e sempre con una lista civica, tranne la prima volta nel 2007 che ero candidata con l'Udeur. Ho ritenuto di dover proseguire questa esperienza anche al fianco di Piero Bitetti. Con Piero c'è un'antica amicizia. Ricordo che io sono stata Presidente del Consiglio quando lui era uno dei miei assessori. Era un assessore in giunta, ho avuto modo di apprezzare la sua conoscenza della macchina amministrativa, la sua volontà di dirimere comunque sempre le controversie e trovare una soluzione a tutto. Poi i ruoli si sono capovolti nella seconda legislatura. Piero è stato eletto dall'Assemblea Comunale Presidente del Consiglio Comunale. Io sono entrato da consigliere comunale delegato prima e da assessore dopo. Quindi una conoscenza antica. Piero è la persona giusta, ritengo che sia la persona giusta per condurre questa amministrazione. Grazie.